Centering Meditation. Questa meditazione ha lo scopo di aiutarci ad individuare una parola, una frase particolarmente indicata alla nostra situazione e al momento in cui ci troviamo. Come molte altre meditazioni si suggerisce 20 minuti di pratica una o due volte al giorno. Assumi una posizione confortevole ma dignitosa. La schiena è retta ma non rigida. Le mani sulle gambe oppure il palmo della mano destra sul palmo della mano sinistra. Porta l'attenzione alle sensazioni di contatto legate alla seduta, al tuo radicamento a terra. Se ci sono sensazioni di disagio porta l'attenzione in quelle zone. Esplora le sensazioni e guarda come cambiano mano a mano che le osservi. Adesso porta l'attenzione al respiro, nel punto in cui ti è più facile percepirlo. alle narici o in gola, nella parte alta del torace, nel diaframma o nell'addome. focalizza l'attenzione sul respiro. Segui tutta l'inaspirazione e tutta l'espirazione. e per i prossimi 5-10 minuti lascia che l'attenzione sia totalmente focalizzata in quel punto. Può darsi che ti accorgerai che la mente vaga, questo è già un atto di consapevolezza. Quando ti accorgi del vagare della mente riporta gentilmente l'attenzione al presente. Questa parte Grazie a tutti. 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 Cento volte la nostra mente vaga, cento volte riportiamo gentilmente, senza giudicare l'attenzione al nostro respiro. Grazie a tutti. 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 Può essere una frase. Può essere una frase, può essere una frase oppure parole singole che nascono in quello spazio. Grazie a tutti. 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 Ripeti le parole o le frasi. Ripeti le dentro di te, fino a che trovi la combinazione giusta. Rimani in contatto con le sensazioni che producono, man mano che le ripeti. sono le tue parole di cura se la mente è vaga riportala gentilmente alle parole e al respiro sono le parole di cui hai bisogno in questo momento rimani in ascolto delle parole del respiro dell'effetto che hanno su di te per quanto tempo lo ritieni opportuno e quando concluderai questa meditazione ricordati di ringraziarti per l'attenzione al respiro per le parole di cura per la cura e il tempo che ti sei dedicato per il tempo che ti sei ricordati di ringrazii per il tempo che ti sei disponibile per l'attenzione al respiro questo è un'immagine che ti sei delante che vota per la cura e il tempo che ti sei